a parte che ormai è una presenza consolidata ma direi che è un momento di allineamento nel senso che siamo in un contesto quello della cyber security comunque fortemente dinamico non solo per un cybercrime che ovviamente sempre più performante anche perché siamo in un momento di boom normativo che da un certo punto di vista aumenta la consapevolezza dall'altro impone l'adozione di nuove tecnologie nuovi processi ora come vargroup siamo sempre attenti a queste dinamiche ovviamente volendo essere il partner che accompagna l'azienda nel percorso di trasformazione digitale però è necessario che anche il partner tecnologico il vendor sia particolarmente attento a questi aspetti innovativi fortinet lo è indiscutibilmente con un gran numero di brevetti di continue evoluzioni essere qui è proprio per allinearsi per riconoscersi in questo momento di innovazione e condividerlo anche con i clienti numerosi che sono che sono presenti ma allora sono diversi gli ambiti diciamo che vargroup corre veloce corre veloce in termini di partnership industriali di integrazioni con quelli che rappresentano il best of breed diciamo nel nell'area di riferimento per avere un portafoglio che è sempre al massimo il più completo possibile e al massimo livello specificatamente nella nella cyber è cambiata molto è cambiata molto nel senso che l'azienda oggi non può più pensare di gestire in autonomia la semplice tecnologia oggi è necessario che ci sia riconoscimento di un partner strutturato che adotti quei processi e abbia quella formazione per poter gestire la cyber a 360 gradi è chiaro che vargroup ha sempre investito molto sul soc fin da tempi non sospetti oggi il soc di vargroup è un'eccellenza nazionale e internazionale se pensi solo che da un punto di vista ad esempio una delle grandi sfide è quello di gestire un numero di eventi sempre sempre maggiore vargroup ha lanciato inizio anno egida sul mercato che è una piattaforma modulare che integra automazione machine learning e artificial intelligence proprio per supportare gli analisti nella nella gestione di tutti questi eventi nell'efficacia e nell'efficienza quindi credo che innovazione formazione processi strutturati siano sicuramente una caratteristica di unicità di vargroup in ambito cyber c'è una consapevolezza tale per cui chiunque qui sappia che l'immunità non esiste per cui la strategia è più che altro orientata a poter contenere nel minor tempo possibile nel poter gestire nel minor tempo possibile un possibile incidente ridurre l'esposizione ridurre il rischio di compromissione quindi se vogliamo la sfida per un cliente non è solo o non è più nell'individuare la tecnologia che sia in grado di coprire il più ampio numero di vettori nel miglior modo possibile ma di diventa proprio per quello che dicevo individuare quel partner che abbia quei processi quelle modalità e e quei servizi in grado di supportare e gestire la gestione dell'eventuale incident quindi dal soc h24 stigioni più su 7 al noc e ovviamente supportati da formazione e preparazione in quest'anno a a Grazie a tutti.